Salve, i come internet, ovvero la possibilità di conoscere donne sul web, se siete di quelli a cui non piacciono tanti locali, gli aperitivi, le discoteche, tutte quelle robe lì, e magari si è anche un po' nerd, tanto per capirci, cercare donne sul web può essere un'idea che ha vantaggi e svantaggi. Il vantaggio è che intanto lì c'è una certa selezione, nel senso che intanto sono tutte donne che comunque sono singole anche loro e anche loro sono in cerca di uomini, perché tante volte invece nel mondo, per così dire, reale, trovate tante donne anche interessanti, ma poi sono sempre fidanzate. Ecco, su internet quelle che sono in cerca, di solito, se sono lì è perché fidanzate non sono, quindi questo è un vantaggio. Poi in secondo luogo avete la possibilità di fare una selezione in base ai vostri gusti, a quello che più vi interessa, gli interessi comuni e tutto il resto, quindi c'è già anche una buona possibilità di selezione, e anche questo è una buona cosa. E poi avete ovviamente dei numeri, dei numeri molto più alti che non ha fatto la trafila uscire, perché uscire andando ai locali, una volta magari c'è poca gente, un'altra volta incontrate sempre le stesse persone, un'altra volta magari vedete poca gente che vi interessa, insomma, internet vi dà la possibilità dei cosiddetti grandi numeri e questi sono i vantaggi, svantaggi. Allora, intanto per fare queste cose su internet dovete iscrivervi a qualche sito e lì intanto bisogna stare attenti a trovare un sito che sia serio, nel senso perché lì mettere in mano la propria carta di credito simile a sconosciuti su internet può essere sempre un rischio, quindi dovete intanto puntare su siti che siano di comprovata serietà. Ecco, perché poi adesso ultimamente una trovata molto in uso è quella di fare il sito dove sembra che non costi niente o quasi l'iscrizione, poi magari uno scoprite che la chat è a pagamento, nel senso che ogni volta che potete scrivere mezza frase per dare un messaggio a una donna dovete pagare, e poi magari ci sono dentro anche dei profili fasulli di donne o finte donne che vi adescano e vi invitano a parlare sempre di più, sempre di più, in modo che voi così spendete sempre di più e alla fine passano i giorni, i messaggi e voi spendete un sacco di soldi senza concludere niente. Ecco, evitiamo anche quelle cose lì. Poi un altro svantaggio può essere che, diciamo che se tante volte quei siti si riempiono di morti di fighe, chiaramente anche le donne che vi si scrivono, tante volte possono essere l'equivalente femminile, quindi magari cercate una donna che vi susciti qualche interesse e magari trovate donne un po', potremmo definire perlomeno un po' mediocri. Ecco. Altro problema sempre sui numeri. Sì, ci sono tante donne, però spesso e volentieri in quei siti c'è una donna ogni 10 uomini o anche più, e quindi c'è anche molta concorrenza, i numeri, diciamo, sono, per così dire, sproporzionati. Ecco, quindi, diciamo, i siti, come detto, hanno vantaggi e svantaggi. Poi dopo, sempre su internet, possono capitarvi anche altre disavventure del tipo. Per esempio, un classico è quella che vi adesca dicendo, ah, ci siamo conosciuti su un sito, su una chat chissà quale, perché poi non lo dicono mai qual è, e vi dicono, ah, però io, diciamo, così non mi funziona bene la chat, non mi funziona bene la mail, vatte la pesca, è meglio se ci vediamo su questo sito qui e vi adescano ad iscrivervi a un sito particolare. Dopodiché, quando avete pagato e vi siete iscritti, ecco che la tipa sparisce, perché ormai vi siete accorti troppo tardi di essere stati fregati, i soldi li avete già spesi e la tipa è sparita. Bene. Pure peggio sono le cosiddette scammers. Ecco, è una cosa che è bene sapere. Chi è la scammer? La scammer è quella che anche lei vi contatta sulla vostra mail, vi dice anche lei in modo molto vago, che vi siete conosciuti, chissà bene su quale sito, chat o social dovate la pesca, comincia a scrivervi delle gran mail, voi rispondetevi, spesso vi manda anche le foto, è quasi sempre, è una bellissima franciulla, spesso e volentieri dell'est europeo, spesso e volentieri, che diciamo è in capo a due, tre, quattro scambi di mail, sembra che lei sia già innamoratissima, che siete proprio l'uomo della sua vita, che le piacete in tutto e per tutto, quindi lei desidera solo raggiungervi per poter coronare il vostro sogno d'amore, ed ecco che cominciano i guai. Perché? Com'è, come non è, la tipa però ha bisogno dei soldi per fare il viaggio, i soldi li dovete dare voi, quindi vi chiede di mandarle dei soldi per pagarsi il biglietto, che tra l'altro su distanze così spesso elevate sono anche dei bei soldini, ed ecco che una volta che voi avete pagato, in teoria le avete mandato questi soldi per pagare il biglietto, ecco che puff, anche questa sparisce, si è presi i vostri soldi e tanti saluti, ecco, quindi evitate anche queste situazioni qui. Devo dire che ormai a me, quando mi capita la scammer, mi ci diverto, mi diverto a farle perdere tempo, e a farle un sacco di domande strane, a cercare di farle andare in buca, e poi quando arriva la domanda di soldi, ecco che mi invento qualcosa per non darglieli, oppure magari, oppure magari, per esempio, qualche volta gli ho detto, va bene, dico, devo pagarti il viaggio, ok, mandami l'indirizzo dell'agenzia di viaggi, ci parlo io, ci occupo io, ti compro io il biglietto, cioè nel senso di comprarlo materialmente, in modo di gestire voi la situazione, ed ecco che cominciano i problemi, la tipa comincia a, diciamo, a essere più insicura, dopodiché ovviamente sparisce. Altra cosa, cercate di essere onesti, nel senso, mettete la fotografia, perché insomma, chi mette la fotografia ha delle possibilità in più, chiaramente, cercate di mettere la fotografia migliore che avete, augurandoci che ne abbiate una. Ecco, non fate come quel mio amico, che non voleva mettere la fotografia, però pretendeva che ce l'avessero le altre, oltre ovviamente ad andare solo sui siti gratuiti. Ecco, concludendo, internet può essere una possibilità, magari non è il caso di farsi tante illusioni, ma insomma, usata con un minimo di buon senso, come detto, può essere una possibilità in più. Salute!